. US Open, Verev no sbaglia la prima. Bene Lorenzi e Fabiano. . Relegato in una sessione serale poi divenuta notturna a causa del prolungarsi del match tra Maria Sharapova e Simona Alec sull'Artur Asce, Alexander Vere conferma il suo ottimo stato di forma all'esordio agli US Open edizione 2017. . Il ventenne tedesco, numero 4 del setting, fatica nel primo set contro Darian King, piegato in un lungo tee break, per poi uscire alla distanza nei parziali successivi. . . Tra le teste di serie, da segnalare l'immediata eliminazione dell'americano Jack Sock, numero 13, che va sotto di due set con l'australiano Jordan Thompson, rimonta fino al quinto, salvo mollare sul più bello. . . Nessun problema invece per l'altro statunitense Sam Querrey, semifinalista a Wimbledon, che si è sbarazzato agevolmente del francese Gilles Simon, e per l'altro transalpino Lucas Pauille, al secondo turno dopo aver regolato il belga Ruben Bemelmans. . . . Avanti anche il lussemburghese Gilles Müller, dopo un primo set perso contro la Aussie e Bernard Tomic, così come lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, vincitore in volata al quinto sull'Uzbeco Denis Tomic. . . A fatica pure il tedesco Mischa Berev, fratello maggiore di Sasha, che impiega circa quattro ore per sbarazzarsi della concorrenza dell'americano Kvyatkovski. Tra le teste di serie, eliminato invece il giovane russo Karen Kachanov, KO. . Contro il giocatore di Taipei Enzunlu, mentre tra i giovani perde una grande occasione l'australiano Tanasi Kokkinakis, battuto in rimonta dal serbo Janko Tipsarevic. . . Al secondo turn invece il canadese Denis Shapovalov, che annichilisce il russo Daniel Medvedev, il croato Bornaco Rick, in tre set sul cieco Yuri Veseli, e l'americano Jare Donaldson, ok in quattro parziali sul georgiano Nikoloz Basilashvili. . Prima giornata positiva per i colori italiani, Alessandro Giannessi lotta ma cede all'estroso Lettne Ernest Sgulbis, mentre Paolo Lorenzi ingabbia in quattro set il portoghese Joao Sousa, e Thomas Fabiano sfrutta un primo turno non impossibile imponendosi sull'australiano John Patrick Smith. . Querrey, 17, Simon 646364. Eubanks, Sela 264626. Lu, Kascianov, 25, 46626363. Verev, 23, Kvyatkovski 76546467563. . . Sock, 13, Thompson 266712617546. Smith, Fabiano 6754663674. Susa, Lorenzi 643667426. Tomic, Muller, 19, 63364646. . . Giannessi, Gulbis 467632657. Veseli, Coric 67567226. Verev 6795746. Shapovalov, Medvedev 756162. . . Ramos Vinolas, 20, Istomin 467647567375. . Fuxovics, MAU 36624662673. . Pouille, 16, Bemelmans 636464. . Donaldson, Basilashvili 604663766. . 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